ok shalom, shalom, shalom eccoci qui a portare fuori le profezie della bibbia siamo gli ebrei israeliti di cui si parla nella bibbia e siamo qui a profetizzare la caduta di questo regno siamo qui a profetizzare ai figli di Esau al mondo, a tutte le nazioni e soprattutto ai figli di Israele che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini e prima di iniziare vogliamo dare tutti i lodi dovuto al padre i nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità che è la pura verità pace e saluti agli eletti della casa di Israele, Yashar'ala che sono sparsi nei quattro punti della terra affaticandosi in questi ultimi giorni per portare questa verità shalom anche alle poche sorelle che con sincerità cercano questa verità e questa lezione andremo attraverso lo spirito noi speriamo che sarà edificante iniziamo parlando di profezie perché qualunque cosa succeda o accada sulla faccia della terra dovunque dove potresti trovare tutto è stato stabilito dal padre onipotente che il suo vero nome è Yahawah e il nome vero del suo figlio è Yahawashai colui che il mondo con l'inganno e l'astuzia chiama Gesù, Cristo, Yeshua e altri nomi il suo vero nome è Yahawashai e attraverso il suo nome ci sarà e attraverso il suo vero nome è Yahawashai